ciao e benvenuti in questo nuovo video nel video di oggi vi parlerò di perché e come mai secondo me è sbagliato standardizzare la pesca e perché non andrebbe fatto intro io sono consapevole che ancora negli ambiti che tratto anche qui su youtube c'ho ancora tantissimo da imparare e che non si smette mai di imparare e questo l'ho detto tantissime volte e lo continuerò a dire sempre ultimamente sembrerebbe che il video che vi lascio qui sopra tra le schede dove parlo delle canne corte da show jigging e qualche altro video che ho fatto sugli approcci dello show jigging in italia non sia andato a genio a qualche pescatore a qualche personaggio e così via semplicemente perché perché non è un approccio standard quello della canna corta che fondamentalmente a me degli approcci standard mi importa una sega perché devo pescare bene io non devo standardizzare perché è sbagliato standardizzare ora ci arriveremo sul come mai praticamente sembrerebbe che siccome i giapponesi giustamente basandosi sui loro spot fanno canne da 9 piedi 6 10 piedi 6 qualche canna anche un po più lunga per pescare a show jigging se non c'hai una canna da 10 piedi 6 da 9 piedi 6 non stai pescando a show jigging però lo show jigging è la pesca con i metal jig dalla costa quindi la pesca con i metal jig in shore non show jig non si traduce in pesca con i metal jig con canna da almeno 9 piedi 6 o da almeno 10 piedi 6 perché se no non è show jigging perché questa è la classica gente che non ci ha capito ancora una sega perché poi anche pescare con la canna da heavy spinning da 9 piedi perché secondo questa gente qui l'importante è averci la canna lunga a show jigging perché vedano su youtube vedano nei video vedano nei dvd di pesca quindi per loro pescare a show jigging è pescare con una canna lunga poi le specifiche tecniche giustamente gli importa una sega perché come deve lavorare la vetta come deve lavorare la canna tutti gli aspetti tecnici di una canna da show jigging fondamentalmente li ignorano quindi to show jigging uguale canna lunga ho comprato la canna da heavy spinning da dubice da 9 piedi 6 faccio show jigging ma non è così lo show jigging e gli stessi giapponesi che loro vanno millantando hanno fatto anche delle canne per degli approcci più light hanno fatto delle canne lievemente più corte lievemente più umane sfruttabili anche nei nostri spot però per loro lo show jigging è canna lunga ovviamente io che dico ragazzi volete pescare con i metal jig ci sono delle canne se non avete la necessità di una canna lunga prendete delle canne più corte più umane che si prestano bene a questo utilizzo cioè questa gente qui mi parla di purismo di show jigging di purismo di show jigging e poi magari mi utilizza delle canne totalmente inadatte che non servono a una sega però la canna è lunga quindi è show jigging cioè vuoi fare il purista ma ancora non sai nemmeno cos'è lo show jigging fondamentalmente lo show jigging è pescare con i metal jig dalla costa abbiamo detto e non mi sembra che io ero un caprone di quelli che pescava veramente heavy io per un periodo sono stato uno di quei caproni che si impuntava sulla pesca veramente heavy show jigging può essere pescare con un metal jig da 20 grammi non deve essere per forza pescare con un metal jig da 120 grammi 100 grammi 130 grammi semplicemente perché lo abbiamo visto nei video quando guardiamo i video ragazzi facciamo mente locale quando guardiamo i video degli australiani quando guardiamo i video degli americani quando guardiamo i video dei greci dei giapponesi degli asiatici ragazzi quelli non c'hanno i nostri spot noi tolto qualche spot non abbiamo quelle condizioni quindi perché bisogna privarci di pescare con i metal jig perché dobbiamo standardizzare troviamo una combo canna mulinello adatta alle nostre esigenze adatta agli spot in cui peschiamo e ai pesci che abbiamo sotto perché se io ho le palamite da un chilo e ci vado con una canna da 120 grammi e c'ho una batimetrica 10 metri per dire pesco male in canna un pesce non mi diverto perché nanna da 120 grammi ragazzi pigli un pesce da un chilo non te lo godi nemmeno e soprattutto non peschi male perché peschi male sia nell'azione di pesca e peschi male come peso perché giustamente su una canna a 120 grammi ci deve andare a mettere un mulinello di una certa dimensione e così via e peschi male cioè un'azione di pesca scorretta per quello dico standardizzare la pesca non è che se io vedo in un video senza nulla togliere agli youtuber giapponesi o esteri che pescano in una certa maniera perché hanno delle condizioni di pesca che non gli permette che hanno necessità di pescare in quella maniera lì se no non stanno in pesca ma ragazzi in italia non abbiamo queste situazioni noi non abbiamo quelli spot non abbiamo quei pesci per quello dico che standardizzare dire no bisogna avere una canna per forza a 9 piedi 6 che deve lanciare almeno 80 grammi andate sulle 100 grammi di qui di là ragazzi e poi la gente che gli da retta poi si rende conto perché va a pescare pesca male non sta in pesca non si diverte non si gode la pescata perché perché l'approccio è sbagliato l'attrezzatura è sbagliata si fanno un culo così con una canna over dimensionata per pescare in degli spot dove non è necessario perché se io in uno spot ci riesco a pescare con i metal jig da 30 grammi perché la batimetrica me lo consente perché è una batimetrica relativamente bassa mi consente di pescare con una canna umana che mi consente di godermi il pesce perché se io ho un pesce da un chilo un chilo e mezzo con una canna da un oncia ragazzi vi dico che ne avete da buttare proprio ne avete da buttare un pesce da un chilo e mezzo ve lo fate senza problemi perché leggo gente cioè con canne molto importanti dire boh la canna era al limite poi va a vedere pesce cioè era alletterato da un chilo ragazzi se mi venite a dire che in apia tipo quella che avevo io la fucine black line con un pesce da un chilo con un alletterato da un chilo va in crisi era al limite ragazzi non ci siamo una sega ai tempi che ce l'avevo ragazzi che pescavano con me l'hanno visto l'hanno provata con dei pesci belli importanti ce ne aveva ancora da buttare ce ne aveva ancora di potenza da dare quindi non mi si può venire a dire mi è arrivata al limite con un pesce da un chilo perché assolutamente no per cui ragazzi non standardizzate la pesca vi porto un esempio banale non è che se io vedo il cacciatore x che tira a degli animali fuori norma con un fucile compro quel fucile lì poi magari ho i beccacci da sparaglio lo so io di accia non ci apisco una sega l'uccellino mi vanno a tirare a cacciatore e degli tiri una fucilata lo disintegri ma perché? non ti devi basare su cosa vedi sì video di youtube ti possono servire come spunto però non è legge perché le condizioni dei tuoi spot o le condizioni di caccia per l'esempio stupido che io ho portato possono non essere uguali le esigenze, le condizioni di pesca o di caccia possono non essere uguali a quelle che poi noi ci ritroviamo in Italia poi detto questo se alla gente non gli garba il video non sposa il mio punto di vista a me fondamentalmente mi importa una sega io ho sempre fatto qualcosa vi ho sempre consigliato per voi per darvi una mano d'aiuto spesso si tende a standardizzare io quando mi chiedete mi dai un consiglio per una canna vi faccio duemila domande vi faccio duemila domande perché? perché non posso standardizzare le vostre esigenze la vostra azione di pesca ai vostri approcci gli spot che avete voi perché non sono tutto il resto che si deve standardizzare alla canna ma deve essere l'attrezzatura da pesca che si deve adeguare alle nostre esigenze ai nostri spot e ai nostri pesci punto io quando mi domandate consiglio una canna mille domande budget esigenze domande sullo spot sulla batimetrica presenza di corrente perché? semplicemente perché devo venire devo trovare un attrezzo adatto alle vostre esigenze quando la gente gli domandate come si vede spesso mi consiglia una canna per pesca scelgine vai compra questa ma cazzo fai a dirgli vai compra questa per quale motivo come fai in base a cosa o vi devono vendere la marca di azienda x o non entrano nel dettaglio perché non hanno un background tecnico da potervi consigliare perché a chiacchierare siamo tutti bravi poi la gente io la invito non mi viene in live alcuni semplicemente perché siamo i king della situazione sugli argomenti che ci si mette d'accordo poi per il resto se non si sa un cazzo la gente ha paura di fare le figure di merda quindi all'invito in live non mi ci viene per cui ragazzi non standardizzate quando chiedete consiglio a quello dice vai compra quello senza conoscere le vostre esigenze molto probabilmente vi sta dando un consiglio errato per cui magari andateci con i piedi di piombo non dico che io vi posso consigliare sempre bene perché fate bene a sentire le altre campane però quantomeno non si può standardizzare prima di consigliare una canna da pesca bisogna conoscere le esigenze del pescatore gli spot i pesci come vuole pescare che tipologia di approccio vuole avere e così via sulla base di quello si può arrivare a consigliare una canna ma no che canna è compri a vella come fai a consigliare quella o gli devi vendere quel brand perché gli devi vendere quel brand oppure spari a zero sperando che poi ci si trova bene e poi tanta gente che ricapita da me dice boh ma non consigliato questa canna qui ma facca ci pesco male perché così perché cosa che esigenze hai eccetera eccetera poi valutando le esigenze e l'approccio del pescatore fondamentalmente gli serviva tutta un'altra tipologia di attrezzo per cui ragazzi il video finisce qui no non finisce qui perché ne ritorneremo a parlare il discorso è lungo ci sono altri aspetti che mi stanno rompendo i coglioni ultimamente per cui ne parleremo tranquillamente in video se il video vi è garbato lasciate un like se non vi è garbato mi importa una sega iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto attivate la campanella i commenti sono sotto se mi volete domandare qualcosa fatelo pure io appena posso leggo e vi rispondo e a me non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo video ciao ciao